Rieccoci, ripartiamo esattamente dallo stesso punto, avevo aperto il programma Street View Download 360 che serve proprio per scaricare sul vostro computer l'immagine che avete copiato su iStreetView.com e dal cui sito avete ottenuto il codice ID. A questo punto apriamo il programma, se vi ricordate avevamo già incollato, ok, qua mi dice che la nuova versione è available, chiudiamo, avevamo già incollato ma non c'è più, quindi lo andiamo a prendere nel nostro programma, allora così rivediamo. Dunque era questo, quindi copio cliccandoci sopra il codice ID della mia immagine, vado ad aprire il programmino, vado ad aprire il percorso in cui lo voglio salvare, quindi decido di chiamarlo prova, il formato sarà JPEG, quindi non dovete cancellarlo, lo decido di scaricarlo nel download, sul desktop o dove volete voi, in una cartella. Poi dove dice panorama ID, incollerò il panorama ID, la risoluzione la abbasso leggermente per evitare di sovraccaricare il computer e di caricare immagini molto molto pesanti, dopodiché download panorama, farò clic su scarica e otterrò un'immagine, un'immagine che vedete sdoppiata con due fuochi perché mi dà l'idea della profondità della mia immagine, dopodiché io ce l'ho salvata in questo modo sul computer, è un'immagine 360, quindi quando voi caricherete questa stessa immagine su un programma, un sito che supporta il 360, vi ritornerà panoramica, cioè potrete farla girare a ruotare a 360 gradi, stessa cosa se la caricherete sul vostro cellulare che supporta le immagini 360. Per ora è tutto, ci vediamo col prossimo video.